Italian. Beginner level 10. Please don't forget to subscribe and like the video. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. They were married a short time after her 21st birthday. Si sono sposati poco tempo dopo il suo 21 gradi compleanno. Si sono sposati poco tempo dopo il suo 21 gradi compleanno. A is before B. A è prima di B. A è prima di B. 7 is before 8. Sette è prima dell'otto. Sette è prima dell'otto. Women are always before men. Le donne sono sempre davanti agli uomini. Le donne sono sempre davanti agli uomini. T is after S. T è dopo S. 5 is after 4. 5 è dopo il 4. 5 è dopo il 4. After me, you are first. Dopo di me, tu sei il primo. How long is Zera's beautiful, light blue dress? Quanto è lungo il bellissimo vestito blu chiaro di Zera? Quanto è lungo il bellissimo vestito blu chiaro di Zera? Her beautiful, light blue dress is to her knees. Il suo bellissimo vestito blu chiaro è in ginocchio. Il suo bellissimo vestito blu chiaro è in ginocchio. Di che colore sono i suoi capelli e quanto è lungo? Di che colore sono i suoi capelli e quanto è lungo? I suoi capelli sono di colore marrone scuro ed è corto, solo sulle sue spalle. I suoi capelli sono di colore marrone scuro ed è corto, solo sulle sue spalle. Per quanto tempo sono state le domande sul tuo test di scienze? The first three questions were not very long. Le prime tre domande non sono state molto lunghe. Le prime tre domande non sono state molto lunghe. Were your answers long? Le tue risposte erano lunghe. Le tue risposte erano lunghe. Some of them were long, but others were short, only one or two words. Alconi erano lunghi, ma altri erano brevi, solo una o due parole. Alconi erano lunghi, ma altri erano brevi, solo una o due parole. Quanto dura una settimana? Quanto dura una settimana? Una settimana è di sette giorni. Una settimana è di sette giorni. Quanto dura un anno? Quanto dura un anno? Quanto dura un anno? A year is 12 months. un anno è di 12 mesi un anno è di 12 mesi how long were you in london da quanto tempo eri a londra da quanto tempo eri a londra sono stato a londra per due anni dal 1989 al 1991 sono stato a londra per due anni dal 1989 al 1991 ero a New York due giorni fa ero a New York due giorni fa mio cugino, che è un insegnante di lingue straniere è stato in Europa sei anni fa Mary was in San Francisco only three months ago Mary era a San Francisco solo tre mesi fa Mary era a San Francisco solo tre mesi fa sono sicuro che quelle persone al tavolo accanto erano al party di mia sorella una settimana fa sono sicuro che quelle persone al tavolo accanto erano al party di mia sorella una settimana fa le due sorelle, Lisa e Ruth, che erano qui pochi giorni fa, non sono mai in ritardo le due sorelle, Lisa e Ruth, che erano qui pochi giorni fa, non sono mai in ritardo da quanto tempo eri sulla grande isola delle Hawaii? da quanto tempo eri sulla grande isola delle Hawaii? ero nella grande isola delle Hawaii per sei mesi, da gennaio a giugno, l'anno scorso ero nella grande isola delle Hawaii per sei mesi, da gennaio a giugno, l'anno scorso quanto tempo sarai in biblioteca? quanto tempo sarai in biblioteca? I will be there from ten to three o'clock sarò lì dalle dieci alle tre sarò lì dalle dieci alle tre quanto tempo sarai con il dottor Johnson? quanto starai con il dottor Johnson? quanto starai con il dottor Johnson? I will be with him a long time is there any problem with that? sarò con lui per molto tempo c'è qualche problema con quello sarò con lui per molto tempo sarò con lui per molto tempo c'è qualche problema con quello quando si sono sposati? quando si sono sposati quando si sono sposati they were married almost eight months ago erano sposati quasi otto mesi fa erano sposati quasi otto mesi fa dov'è il loro nuovo posto? dov'è il loro nuovo posto? it is almost in the middle of the city è quasi nel centro della città è quasi nel centro della città what time is it? it is almost seven o'clock sono quasi le sette in punto sono quasi le sette in punto what time will Helen be at school? a che ora Helen andrà a scuola? a che ora Helen andrà a scuola? she is almost always there before 8.15 è quasi sempre lì prima delle 8.15 è quasi sempre lì prima delle 8.15 who is that old man? chi è quel vecchio? chi è quel vecchio? he is my father lui è mio padre lui è mio padre who is that beautiful woman? chi è quella bella donna? chi è quella bella donna? she is my sweetheart lei è il mio dolce cuore lei è il mio dolce cuore lei è il mio dolce cuore who is that happy boy? chi è quel ragazzo felice? chi è quel ragazzo felice? he is my big brother lui è il mio fratello maggiore lui è il mio fratello maggiore chi è quella bambina? chi è quella bambina? she is my young daughter lei è la mia giovane figlia lei è la mia giovane figlia lei è la mia giovane figlia chi sono quei bambini piccoli? chi sono quei bambini piccoli? sono i miei piccoli cugini sono i miei piccoli cugini sono i miei piccoli cugini che è il mio fratello maggiore che è il mio fratello maggiore ai miei piccoli sono i miei piccoli avessale saluto